Oggi andremo a parlare di come requisire la propria autostima dopo che è stata devastata dall'interazione con un narcisista o una narcisista. Pertanto, iniziamo! Allora, riprendersi e recuperare la propria autostima dopo aver interagito per tantissimi anni con i narcisisti non è facile. È un'impresa da Dio e purtroppo ci sono anche conseguenze che possono succedere nella nostra vita di tutti i giorni. Perché tutte queste interazioni con i narcisisti comunque ci causano uno stress post-traumatico. Poi se proveniamo da una famiglia disfunzionale dove abbiamo vissuto uno stress post-traumatico complesso, le cose non sono decisamente facili da gestire. Perciò riprendo una tematica che ho già affrontato in un precedente video alla quale combinerò alcuni elementi che ho usato personalmente per potermi rimettermi in piedi. Vi avviso già che non si tratta di una soluzione miracolo. Dovete prendere in conto che ci vorrà del tempo. Non datevi dei tempi corti. Io personalmente, all'epoca, mi ero dato 7 anni. Quindi datevi più tempo che potete. Perché comunque anche quando avverrà il cambiamento, tutte le cose negative non andranno via, purtroppo. La cosa che si può fare è sviluppare nuovi neuroni, nuove abitudini, nuovi modi di vedere la realtà, che ci aiuteranno ad allontanarci da certi meccanismi o da certi bloccacci che ci impediscono di andare avanti. Quindi la prima cosa sulla quale bisogna lavorare è capire com'è che funziona la nostra autostima. La nostra autostima dipende molto da quello che viene chiamato self-concept. E se non avete ancora visto quel video, ecco qua il link. Che cos'è? Praticamente ogni volta che pensiamo a noi, che ci immaginiamo la nostra persona, ci sono dei valori, ci sono dei pensieri che associamo a questa immagine che abbiamo di noi. Quindi possiamo pensare di noi che siamo magari dei atleti, magari che siamo dei bravi pittori, magari che siamo bravi a guidare la macchina, bravi a cucinare, che siamo persone che ispirano fiducia. Quindi questo è l'aspetto che riguarda la nostra parte quando andiamo a nutrire il nostro self-concept. Poi in questo self-concept ci sono delle parti che provengono dalle persone con le quali interagiamo, che ci lasciano dei feedback indiretti, del tipo quando ci dicono che hanno passato un bel pomeriggio con noi, che gli piace il regalo che abbiamo fatto. Tutte queste cose sono dei feedback che ci fanno capire che siamo delle persone apprezzabili e quindi vanno a sommarsi nel nostro self-concept. Provate a immaginarlo così, come una sorta di sfera, no? Una sfera composta da diversi pezzi e su ognuno di questi pezzi sono scritte delle qualità. Questo normalmente è il nostro self-concept. Quindi in base a quanto ci piace il nostro self-concept, in base a quanto lo apprezziamo, in base a quanto pensiamo che è fedele a quello che pensiamo di essere in quanto persona, avremo un certo tipo di autostima. Quindi i due sono estremamente legati. Se abbiamo invece un self-concept che non ci piace, con delle nozioni che, detto papali papali, ci fanno schifo, automaticamente avremo una pessima percezione di quello che siamo, della persona che siamo. Questo si può tradurre nel fatto che non ci piace guardarci allo specchio, non ci piace quando le persone ci fanno certi complimenti, anzi, non ci reputiamo degni di avere dei complimenti. A volte non ci reputiamo neanche degni di essere amati, di essere apprezzati da qualcuno o di poter anche trovare l'anima gemella. In certi casi estremi, quando ci si presentano delle opportunità nella vita, non le vogliamo prendere. In base al self-concept che abbiamo, quindi immaginiamo un self-concept in cui c'è un pezzo in cui c'è scritto incompetente, c'è un altro pezzo in cui c'è scritto rovina tutto. Pensando che noi siamo dei incompetenti e che roviniamo sempre tutto, quando ci verrà data un'offerta di lavoro o qualcosa, la rifiuteremo. Quindi vedete? Vedete come il self-concept influisce la nostra vita? Queste fanno ancora parte di quelle che chiamo catene invisibili. Ora, com'è che si collega il nostro self-concept con i narcisisti? Perché ricordate, il self-concept influenza la nostra autoestima, ma il nostro self-concept è il risultato di quelle che noi pensiamo di noi stessi e di quelle che le altre persone ci lasciano come feedback riguardo a noi stessi. Quindi è un insieme di cose. Il narcisista quando interagisce con noi, che cosa fa? Vi ricordate l'esempio della lavagna? Ecco, lui va sul self-concept e cancella tutto. Quindi il self-concept che abbiamo su di noi, prima di incontrarli, magari ci consideriamo una persona solare, una persona amabile, una persona rispettabile, una persona che lavora duro in maniera onnesta per poter ottenere quello che ha nella vita. Ecco, il narcisista quando cancella la lavagna, tutte queste cose vengono tolte via e vengono sostituite con idee tipo Sei una truffa, non meriti nulla. Sei una persona che ha soltanto fortuna e niente di più. Sei un imbranato, un'imbranata. Rovini sempre tutto. Ma guarda come sei fatto. Ma guarda come sei brutto, come sei brutta. Ci vedete? E quindi quando voi state assieme ai narcisisti per tantissimi anni, la sfera viene cancellata e sostituita con queste idee qua. E quindi questo diventa il nostro self-concept, perché ci viene ripetuto in continuazione dal narcisista. E come se non bastasse, queste cose vengono ripetute anche dalle scimmie volanti. Questa è la cosa tragica. E quindi tutta la sfera di conoscenti che abbiamo in comune con il narcisista andranno a ripetere queste idee consapevolmente o inconsapevolmente. Questo perché? Perché il narcisista quando parlerà magari con una scimmia volante che è ignara della vera natura del narcisista o la narcisista, parlerà di noi dicendo Ah sì ma sai, lei combina sempre un casino, ha sperperato i soldi, non sa prendersi cura dei bambini, non riesco mai a lasciarla da sola. E quindi vedete? La scimmia volante ignara assorberà questi concetti che sono associati alla vostra persona. E quindi quando interagirà con voi, volente e nolente, andrà a rafforzare questi concetti. Nella nostra mente si creerà veramente l'idea che noi siamo quello che il narcisista ci ha fatto credere di essere. Perché non soltanto lui o lei ce lo ricorda dalla mattina alla sera, ma in più le persone che conosciamo ce lo ricordano sempre. Rafforzano queste idee in continuazione. E se non lo dicono, si atteggeranno in questa maniera qui. Prendo un esempio estremo. Immaginiamo che il narcisista o la narcisista va in giro a dire che siete dei ladri. Bene. Ogni volta che andrete a casa di una scimmia volante, ignara questa, vedrete che nei vostri confronti cercherà sempre di atteggiarsi come se bisogna tenere lontano le cose preziose da voi, no? Bisogna sempre parlarvi con una certa distanza. La borsa invece di lasciarla vicino a voi la metteranno dall'altra parte e queste cose qui. Questo perché il narcisista o la narcisista andrà in giro a dire che siete dei ladri, che siete bla 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 bla, tutte queste robe qui. Ecco. Queste sono le modalità in cui il self-concept che ci impone il narcisista o la narcisista viene assimilato invisibilmente nella nostra mente. Perché ci viene ripetuto in continuazione. Ora. Una volta che ci siamo liberati dal narcisista o della narcisista, cos'è che bisogna fare? Bisogna sedersi. E qua vi consiglio vivamente di fare questa cosa. Con un amico o un'amica fidata oppure con un professionista, con uno psicologo o un terapeuta professionista. Perché quando farete questa cosa qui, ci saranno momenti in cui le vostre emozioni andranno fuori controllo. È una cosa che vi posso garantire. Perché è sempre così. Perché vi dovrete mettere di fronte alla realtà, affrontare questi concetti che avete di voi. Prendiamo il caso che dovete affrontare il concetto secondo il quale pensate di essere una persona falsa, una bugiarda, una persona che truffa le persone perché è questo che il narcisista o la narcisista vi ha fatto credere ed è così che le altre persone vi hanno trattato. Bene. Quando vi siederete e comincerete ad analizzare questa parola e come vi immaginate associate a questa parola, non sarà facile, sarà molto difficile. Perché rivedete quelle volte in cui avete subito delle ingiustizie in base a questa menzogna sulla vostra persona. Rivedrete quelle volte in cui il narcisista o la narcisista vi ha imposto questo pensiero, a volte anche sgridandovi tutte queste cose. e quindi avrete dei momenti in cui le emozioni rischieranno di andare un po' fuori controllo. Per questo che ci vuole qualcuno che vi stia vicino, che vi calmi e che vi ricordi chi siete e perché state facendo quello che state per fare. Quindi scrivete, scrivete tutti i pensieri che avete su di voi che provengono dal narcisista, specifico il narcisista. Perché il lavoro va fatto prima da questa persona qui. Perché questo è l'inquinamento che bisogna levarsi dalla mente. Tutto l'inquinamento che queste persone vi hanno fatto va levato subito. Quindi per questo è che si inizia con il narcisista o la narcisista. Fate la lista dei concetti che il narcisista vi ha imposto. Quindi le idee negative che aveva sempre su di voi, che vi diceva sempre, so che siete lenta, siete lento, siete un bugiardo, una bugiarta, ve la prendete facilmente, girate la realtà al vostro favore e tutte queste cose. Quindi voi scrivete questa cosa. Poi, una volta che scrivete, cominciate a fare il paragone con la vostra realtà prima di aver incontrato il narcisista o la narcisista. E provate a vedere se tutte queste accuse combaciano con elementi della vostra vita passata. Per questo è che bisogna avere anche persone che vi conoscono, persone che vi hanno sostenuto, che vi hanno viste soffrire durante i momenti difficili che attraversavate con il narcisista o la narcisista e che hanno visto che questo non eravate voi perché sanno chi siete voi, sanno perché vi vogliono veramente bene e perché vi conoscono da tantissimi anni. Queste persone vi servono per potervi ricordare chi eravate prima di aver incontrato il narcisista e quindi voi farete la lista. Quindi qua il narcisista dice che sono una persona disorganizzata. Provate a vedere la realtà. Magari avete un lavoro in cui gestite un'azienda. Avete un ruolo tipo da caporeparto o quello che è, da manager o quello che è. Pensate un attimo. Avete quel lavoro da vent'anni e lo avete mantenuto mentre stavate col narcisista malgrado le difficoltà che vi hanno fatto subire e non una volta avete rischiato di essere stati licenziati per le vostre qualità organizzative. Questo che cosa vuol dire? C'è un contrasto. Qua c'è un contrasto fra la realtà e quello che è stato detto dal narcisista qui che vi è stato ripetuto che siete imbranati che non sapete farle cose organizzate. Quindi vedete? Qua cominciate a vedere una cosa conflittuale. Fate questa cosa quindi con ognuno di questi malsani concetti con i quali i narcisisti vi hanno rovinato la vita. Fate la lista e paragonate con la realtà in maniera oggettiva. Io vi dico sarete molto molto sorpresi. Sarete sorpresi di vedere quanto la realtà e tutte queste fandonie queste idee spazzatura che provengono dai narcisisti non c'entrano assolutamente nulla con quello che siete ma proprio zero di zero. Perché il problema è che quando stiamo con queste persone dobbiamo ricordarci che prima di inquinarci la mente ci hanno fatto un certo lavaggio di cervello. Ci hanno fatto credere che di loro ci potevamo fidare. Che erano persone che sapevano qual è la cosa giusta. E quindi abbiamo dato per scontato un sacco di cose senza andare a controllare senza andare a vedere se combaciavano veramente con la realtà o meno. Questo è il problema. Adesso che queste persone non ci sono più è iniziata a fare questa cosa. Quindi la lista e quando vedrete che la stra gran maggior parte di tutte queste schifezze sono tutte false lì sarà il momento di cominciare a ricostruirsi. Ve lo dico perché è quello che ho fatto quello che vi sto dicendo è esattamente lo stesso procedimento che ho usato per ricostruirmi. Prendete tutte queste cose e buttatele giù. Però per buttarle giù bisogna affrontarle. Via star lì bisogna leggere e dire queste persone qua mi hanno dato del brutto. Io sono brutto? No. Perché? Per questo, 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 questo. Quello esecrabile narcisista mi ha dato dell'incapace mi ha dato della persona che ottiene tutto grazie alla fortuna. Fate la lista. Poi vedrete ma guarda il diploma che ho avuto ai superiori ma guarda la mia laurea ma guarda e così via dicendo. Allora i traguardi non devono essere per forza dei grandi traguardi a livello sociale perché di norma è la società che decide se un traguardo è grande o quella o così. Io vi dico l'importanza dei vostri traguardi siete voi a definirli non il narcisista e non la società li decidete voi e quindi io per esempio come traguardo metto la patente perché per ottenere la patente non è una cosa facile quante persone vengono bocciate all'esame di patente? Quanti soldi spendete per fare la patente? Quanto tempo ci mettete per studiare? Ecco e quindi quando lo ottenete è un traguardo è un traguardo perché probabilmente il narcisista o la narcisista che vi ha dato dell'incompetente non ha neanche la patente è stata bocciata dieci volte di seguito vi rendete conto però vi dà a voi dell'incompetente quindi prendete tutti gli elementi che sono dei traguardi anche quelli di cucinare non so una pizza immaginiamo che per tanti anni avete cercato di cucinare una pizza e un giorno siete riusciti a farlo come si deve e la vostra famiglia o i vostri amici vi hanno apprezzato per questo è un traguardo è un traguardo perché prima non sapevate come farlo adesso lo sapete fare e siete apprezzati per questo ecco vedete quindi fate la lista di tutti i traguardi tutti i traguardi che avete raggiunto nella vostra vita e vi dico ancora una volta che sarete sorpresi perché vi renderete anche conto che molti dei traguardi che avete raggiunto i narcisisti non li hanno raggiunti neanche per metà neanche per metà cioè capite per quello che dico che bisogna sedersi e fare la lista si fa la lista si scrive si osserva oggettivamente e si vede cos'è vero e cos'è falso finito questo iniziate a lavorare sul vostro self concept su come voi vi vedete o come vi immaginate fra 5 anni 5-6 anni scrivete fra 5 anni mi vedo diventare un pianista o comunque provare a suonare il pianoforte ecco vi do un esempio questo canale come dico spesso nei commenti non è che l'ho creato perché volevo creare questo canale in maniera specifica che parla di psicologia di narcisista e quello che è questo canale è nato con un altro intento volevo provare alcune cose poi si dà il caso che nel mentre cercavo questo è diventato quello che è diventato anche grazie a voi quindi vedete per quello che dico che a volte non si tratta di fare la cosa per raggiungere l'obiettivo che vi state fissando ma si tratta della strada si tratta di quello che si raccogli sulla strada di quello che si sviluppa sulla strada mentre state cercando di raggiungere questa cosa perché poi arriverà un momento in cui quella prima cosa che avete provato ad inseguire la mollerete perché la nuova cosa sarà più importante e vi farà scoprire delle cose su di voi che neanche sapevate di avere cioè capite per quello che dico voi datevi degli obiettivi magari comunque degli obiettivi che sono alla vostra portata quindi ho detto suonare il pianoforte andare a nuotare oppure prendere la macchina con un amico o un'amica e dite oh sai una cosa oggi facciamoci un giro di 200 chilometri così andiamo a scoprire un po' d'Italia andiamo a scoprire un po' la nostra regione e la regione confinante una cosa così datevi questi traguardi perché avranno anche come obiettivo di farvi dimenticare del narcisista la narcisista e tutte queste robe qui vi farà riscoprire la voglia di vivere la voglia di esprimervi di sviluppare e manifestare il vostro potenziale mi vedo provare a diventare un pilota ecco così scrivete queste cose scrivete perché anche se riuscirete o non riuscirete a diventare pilota non è questo l'importante l'importante sono i sforzi che farete per cercare di raggiungere questo obiettivo perché facendo questi sforzi svilupperete una certa autostima svilupperete una certa volontà svilupperete una certa visione una certa percezione delle vostre capacità di quello che potete fare e quello che non potete fare perché queste cose prima di conoscere il narcisista queste cose le sapevate conoscevate i vostri limiti ma dopo che avete conosciuto il narcisista o la narcisista tutto è stato un po' scombusolato quindi bisogna rimettere le cose in sesto bisogna ricalibrare le cose quindi scrivete come mi vedo fra cinque anni che tipo di persona penso di essere quando mi immagino come vorrei essere percepito o percepita dagli altri come che mi percepisco e se adesso non riesco a percepirmi così cos'è che posso fare? esistono dei libri che mi possono aiutare esistono dei video che posso guardare che mi possono aiutare cominciate a cercare perché io vi dico una cosa per ognuna delle cose che una persona si vuole cercare di raggiungere la vita esiste una soluzione esiste un libro esiste un video esiste un professionista esiste un amico esiste una persona che vi può dare gli elementi di cui avete bisogno per potervi ricostruire come dite voi la cosa è che bisogna darsi da fare per questo che è necessario avere delle persone che vi sostengono ma vi dico un'altra cosa c'è un'altra cosa che vi può sostenere tantissimo ma tantissimo sapete che cos'è? ho anche fatto un video su questo se non l'avete ancora visto ecco qua il link la rabbia la rabbia ripresa che avete usatela non per fare del male non per prendervela con le persone non per scaricarla ma per motivarvi come energia dovete usare questa rabbia per dire questo obiettivo qua che voglio raggiungere lo raggiungerò perché sono incavolato sono incavolata voglio riprendermi la mia vita come dico io questa è la cosa che dovete fare perché quella rabbia lì è un fuoco se viene usata in modo intelligente è un fuoco e con questo fuoco vi riaccendete e vi ricostruite vi ripeto non è una cosa che impiegherà un mese o due no è una cosa che potrebbe impiegare 5-6 anni o quello che è perché comunque quando il cambiamento arriva non ve ne accorgete ve ne accorgete soltanto un anno 2-3 anni dopo che il cambiamento è avvenuto non succede mai che adesso state iniziando il cambiamento e non lo so domani oh ecco qua sento il cambiamento no 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 non funziona non funziona proprio così funziona che ci sarà un momento dopo che sarete persi a fare queste nuove cose a cercare di raggiungere questi nuovi traguardi arriverò un momento in cui direte aspetta un attimo ma c'è qualcosa che è cambiato non mi riconosco più appunto vi siete riscoperti e in quel momento vi renderete conto che negli ultimi anni che sono passati dopo che vi eravate dati come obiettivo quello di cambiare e di ripulire delle schifezze mentali che vi hanno lasciato i narcisisti siete cambiati drasticamente siete diventati non come la persona che eravate prima di conoscere il narcisista ma qualcosa di più qualcosa di migliore qualcosa di più agguirito e soprattutto adesso sapete riconoscere i narcisisti così appena si avvicinano anche tipo 50 metri sentite sentite il narcisista la narcisista proprio vi parte il sistema antinarcisista con lo scudo e tutto quello che serve per tenere i lontani saprete che da questo o questa devo stare lontano devo mantenere una certa distanza di sicurezza bene questo è tutto vi ringrazio per la vostra attenzione fatemi sapere come vi è sembrata questa puntata in futuro proverò a fare altre puntate simile a questa in cui si parla di come ricostruirsi dopo l'interazione con i narcisisti e non mi rimane altro da dirvi che ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao